ciao bimbine mie belle adorate eccoci qua di nuovo con un bel animaletto oggi abbiamo un gattino bianco piccino piccino tanto tanto affamato iniziamo a darle qualcosa da mangiare ha mangiato un bel pescetto però secondo me ha ancora un po' fame voi chiedite? vediamo un po' proviamo a darle qualcos'altro un po' di mangino per i gatti vediamo ah si ha proprio fame l'ha divorato vuoi ancora mangiare? ma sei insaziabile gattina oh com'è carina che bel pelo bianco ho proprio voglia di cuccolarlo si e adesso? ancora un po' di cibo per gatti? ma e lo divore anche questa volta l'ha quasi mangiato tutto in un sol boccone non dirmi che hai ancora fame eh? ma ci picchia ma da quant'è che non mangi? un pochino di crocchette dai un po' senza esagerare ma mangia piano mangia e l'ha già finita mamma mia ma che stomaco che hai? quante cose ci stanno e adesso che cosa vuoi ancora? ah beh ok il nostro gattino è sazio ma adesso andiamo a divertirci un po' insieme a lei vediamo vediamo wow ma che armadio ah dei pescetti deliziosi sono più carini dei miei guardate bellino questo golfino con la gonnellina sembra una collegiale possiamo anche cambiare di colore mmm verde che carino ti piace? ne proviamo anche questo abitino oh com'è grazioso con le rouge le balze proviamolo in giallo in blu e in verde quale preferisci? mi sa te le piacciono tutti hai questo con il pizza? oh ma questo è proprio da principessa ed è bello in tutti i colori sia in rosa che in blu che in verde hai scelto questo? verde di pizza ottima scelta e adesso ci vuole una coroncina da principessa che carina li abbiamo di tutti i colori di tutte le forme mmm questa mi piace molto eh come luccica e questa? oh un fiocchettino carino questo fiocchettino a scacchi proviamolo in rosso molto carino e adesso anche gli occhiali ma come? non ci vedi bene? proviamo questi mmm da professoressa che carina questa gattina e questi qua con le lenti rosa sono molto molto simpatici e questa forma di cuore? ma che carini mmm leopardati oh carinissimi e adesso mettiamo un collarino carino questo con le perle oh questo qua è delizioso riprende quasi il fiocco questo qui invece ha i fiorellini una bella perla centrale e adesso le scarpette ma che buffe ma sei proprio carina 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 eh è anche molto vanitosa proviamo le scarpine rosa come sei carina e adesso vuoi anche magari una spilla ma ci picchia ma come ti sei addobbata tuta sendo un albero di natale un po' più di sobrietà gattina ci vuole eh mmm insomma avete capito la nostra gattina è proprio vanitosa come tutte le ragazze grazie a tutti